Fermotech, questo è il nome dato al laboratorio per l'innovazione sorto nel centro storico dell'omonima città marchigiana. Lo scopo è quello di promuovere l'imprenditorialità del territorio e supportare le aziende locali tramite consulenze specialistiche, progetti di ricerca e sviluppo, sostegno tecnologico. Il centro di ricerca è nato grazie a dei fondi comunitari europei e a breve avrà la sua nuova sede nell'area dell'ex mercato coperto. È certamente un centro dedicato al territorio perché vede appunto l'unione di università, imprese e il comune, il comune di Fermo che fa da collante per questo centro di studi e ricerca. È tutto dedicato certamente ai giovani perché quando parliamo di università ovviamente la nostra dedizione è al futuro, ma sicuramente anche al mondo degli imprenditori. E quindi è questo che veramente ci portiamo dentro e cioè il fatto che il futuro è in mano ai giovani. Ci sono degli ingegneri che lavorano qui perché possono essere appunto rappresentativi nelle imprese che fanno parte del Fermotec di ricerca e sviluppo di progetti. Questi progetti che ovviamente possono essere anche a disposizione quindi sia del pubblico che del privato. È un luogo di collaborazione, è un luogo di opportunità per le imprese che possano quindi sviluppare insieme dei ricercatori specializzati e molto di eccellenza dei nostri atenei. Ricordiamo che le università che sono parte, sono l'università politecnica delle Marche e l'università di Camerino. E il ricercatore di queste università assieme a delle altre imprese che forniscono e contribuiscono a fornire la tecnologia che vediamo qui all'interno del nostro laboratorio consente a una piccola e media imprese di sviluppare quindi il loro progetto di innovazione tecnologica. Il laboratorio è dotato di tecnologie d'avanguardia per sostenere e supportare le piccole e medie imprese del territorio e per favorirne l'innovazione. Realizziamo ambienti virtuali che possono essere fruiti dalle aziende sfruttando dei visori o delle tecnologie adatte alla realtà virtuale e aumentata. La seconda area è quella dell'additive manufacturing, infatti abbiamo all'interno del laboratorio diverse stampanti 3D per realizzare parti sia estetiche che funzionali, ognuna con le proprie caratteristiche, con i propri tempi e con i costi associati. La terza area non ha un supporto in realtà fisico perché è l'area data science che si occupa appunto di sfruttare i dati in possesso delle aziende per estrarne informazioni, acquisire conoscenza e supportare le aziende nel processo di decision making.